Il capitano della compagnia è ferito e sta per morire e manda dire ai suoi alpini che lo rivengano a ritrovare e manda dire ai suoi alpini che lo rivengano a ritrovare e i suoi alpini che lo rivengano a ritrovare e non ha scarpe per camminare e con le scarpe o senza scarpe in miei artini li voglio far cosa lo manda se un capitano che i suoi alpini se vuoi arrivare e io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia tagliato il primo pezzo alla mia patria secondo pezzo al battaglio il terzo pezzo alla mia mamma che si ricordi del suo figlio il quarto pezzo alla mia bella che si ricordi del suo primo amor l'ultimo pezzo alle montagne che la fioriscano di rose e fior l'ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fior l'ultimo pezzo alla mia l'ultimo pezzo Grazie a tutti.